Oggi non ho un pollo arrosto, dove si compra il pollo arrosto? Oggi non ho un pollo arrosto, vorrei mangiare un pollo arrosto Come farò senza pollo arrosto? Ho un bellissimo cosciotto di pollo arrosto Dove posso andare, dove posso andare a trovare un pollo arrosto? Per oggi il pollo arrosto non c'è, ma domani ci sarà